Al Congresso Nazionale di Ginecologia e Ostetricia, che si è tenuto a Napoli, esperti da ogni parte del mondo si sono confrontati su prevenzione di agnosecura dei tumori ginecologici, focus anche su temi come l'infertilità e attenzione alla ostetricia appropriata. Circa 2000 medici hanno preso parte alle tavole rotonde organizzate dalla SIGO, la Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, e dalla OGOI, l'Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani. Dopo 18 anni dal primo appuntamento di questo tipo, promosso anche in quell'occasione da Antonio Chiantera, Napoli è tornata capitale della ginecologia. Luigi Stradella, primario di Ginecologia e Ostetricia presso l'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Noi abbiamo fatto 44 meeting, 18 incontri, 72 letture magistrali, 8 precongressi, di cui uno di questi soprattutto per quanto riguarda l'emorragia nel postpartum, oppure eventualmente la difficoltà che un giovane può incontrare nella sala parto. Quindi questo è il messaggio che noi abbiamo voluto dare e spero che i giovani e tutti, soprattutto gli esperti che sono venuti da tutte le parti del mondo, abbiano dato in questo congresso. Nel tracciare un bilancio dei lavori, Elsa Viora, presidente a OGOI, ha usato i cinque punti per un'ostetricia appropriata, approvati durante il congresso. Sul tema della medicina predittiva è intervenuto Fulvio Zullo, direttore della scuola di specializzazione di ginecologia ostetricia dell'Università di Napoli, Federico II. Esistono delle possibilità di fornire informazioni alle donne su quale saranno i loro tempi di potenzialità riproduttiva, perché sempre più donne vanno in menopausa precoce e la ultima possibilità riproduttiva per una donna è circa dieci anni prima della data della menopausa. Su questo si fa confusione per colpa dei media che spacciano grandi risultati in over 50, che sono sempre donazioni pericolose per la salute delle donne. Durante i lavori ha aperto anche un tavolo sulla violenza contro le donne alla luce dei dati drammatici illustrati da Giuseppe De Placido, direttore del Dipartimento Materno e Infantile dell'Università di Napoli, Federico II. Questo codice rosso, così come è stato chiamato questa ultima legge, ha naturalmente bisogno di dei correttivi, correttivi che significano lavorare concretamente ma in sinergia attraverso delle istituzioni che lavorano in collaborazione per creare dei team super specialistici che possono poi aiutare la donna a superare un impatto, questo impatto negativo che se lo riporterà per tutta la propria vita.